55 candeline spente da poco e ancora tanta vitalità ed energia dirompente. Claudio Chiappucci, corridore professionista dall'85 al 98, sovrannominato il Diablo per il suo generoso stile di corsa sempre all'attacco, continua a girare l'Italia in lungo e in largo per centinaia di iniziative sociali e di promozione delle due ruote. E lo fa anche per giornate festose come il trofeo Latella che l'ha portato sui nebro di lo scorso weekend, una cicloturistica che lo ha visto protagonista in una manifestazione servita anche a raccogliere fondi per beneficenza. Dopo il ritiro infatti il Diablo ha continuato a pedalare, la bicicletta è per lui l'ideale compagna di viaggio per una vita piacevole e spettacolare in giro per il mondo tra premi, riconoscimenti, manifestazioni di grande presa. Io in Sicilia ho tantissimi amici da sempre, poi il ricordo indelebile è quello del mondiale di Agrigento, ovviamente anche Capodorlando era per direttanti. Esatto, esatto, dell'amico Ingrillì e quindi ho dei ricordi stupendi, da loro ho avuto sempre tanti tifosi che mi hanno seguito. Se penso che da me è bruttissimo tempo qui pedalare senza pioggia, credo che sia anche una cosa bellissima. Quanto può fare il fenomeno Nibali bene al movimento del ciclismo? Nibali è ormai l'uomo più conosciuto del ciclismo nazionale, soprattutto, ma anche internazionale, è quello che è riuscito a fare i migliori risultati in tutte le corse anche quando non te lo aspetti, per esempio noi non saremo, nessuno crede si potesse aspettare quello che ha fatto, però anche lui è imprevedibile. Non ci sono più corridori magari carismatici come una volta, però ci sono corridori che riescono a lasciare un'impronta come sta facendo Nibali. È difficile ridare credibilità totale a questo movimento oppure ormai il peggio è passato? La credibilità è sempre qualcosa di difficile da valutare, perché se penso a caso Frum, per esempio, è un caso che sta segnando molto il ciclismo e sta creando delle conseguenze che non sono positive per il ciclismo. Tocca anche a chi sta nell'alto del ciclismo, a chi deve far rispettare le regole, far capire che anche se è un grande corridore che ha dei grossi risultati, se è sbagliato deve pagare come un piccolo corridore. Il ciclismo è uno dei sport dove serve sicuramente la passione. Se non c'è la passione non puoi partire poi con gli altri principi, perché è un po' le fondamenta di una casa. Fai questo sport, lo fai per passione, perché ti piace, perché ti piace la fatica, perché ti piace tutto quello che avvolge questo sport. È chiaro che la gioventù di oggi è diversa, vede dei sport più facili, più semplici, ma anche meno voglia, secondo me, di fare dei sacrifici che per noi erano normali. Quindi bisogna ritornare un po' a insegnare cosa è lo spirito dei sacrifici, altrimenti faremo sempre fatica a trovare un ricambio.